Oggi siamo in una situazione difficile, ieri la borsa ha perso decine di miliardi, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del Toto Ministri, come giustamente diceva Bersani, o stiamo parlando di campagne elettorali che finirebbero inevitabilmente, forse per creare la contesa tra i partiti, ma arriveremo a questa contesa tra i partiti dopo aver distrutto definitivamente l'Italia, avendo compromesso il risparmio degli italiani in modo irrimediabile. Allora siamo a un passo dal baratro, ci dobbiamo fermare e fare prevalere gli elementi di unione per salvare il Paese. Poi guardate, ciascuno tornerà esattamente nelle posizioni in cui era precedentemente, ciascuno sarà libero di spiegare se è d'accordo col bipolarismo, se non è d'accordo, se è d'accordo con l'impostazione di un tipo o di un altro. Tutto questo fa parte della normalità. Noi non siamo in una situazione di normalità, siamo davanti a un'emergenza e siamo chiamati noi uomini politici a salvare la nostra ragione sociale. Quando io ho letto oggi in alcuni giornali, su Monti, alcune affermazioni della serie, ma qui ci sarebbe l'abdicazione della politica. No, scusatemi, questa è l'ultima possibilità che la politica ha di salvare se stessa e di non essere liquidata col marchio dell'irresponsabilità dall'opinione pubblica di questo Paese. Poi ciascuno tornerà alla contesa, perché è giusto che in momenti di normalità ci sia la contesa, ma oggi siamo chiamati a impegnarci di qualcosa di più importante. Voglio solo dire una cosa e mi rivolgo a maggioranza e opposizione. Berlusconi è stato un grande alibi per tutti, un grande manto che ha consentito anche magari a chi faceva l'opposizione di non doversi misurare con la drammaticità delle questioni per quelle che sono. Allora, io credo che la caduta di questo governo porterà tutti a fare i conti con se stesso. È un problema che chiama a un'assunzione di responsabilità seria, perché vede, i governi passano, ma i problemi purtroppo rimangono. E sono problemi che non possono certo essere delimitati a questi ultimi quattro anni, ma hanno molti di loro radici e sedimenti antichi.